...sempre più vicino alla Fiorentina, la trattativa continua, ma nel frattempo Lomonaco riporta Catania e Bergessio. Sentiamo Fragalà. Cinque golli rosso-azzurro nella passata stagione in sole 12 partite, reti decisive per la salvezza del Catania e un amore immediato con la città e la tifoseria. Gonzalo Bergessio torna a Catania per ricominciare da dove aveva lasciato. Una trattativa difficile quella con il Sant'Etienne, condotta da Pietro Lomonaco con la volontà di riportare il giocatore in maglia rosso-azzurra. Alla fine l'accordo è stato raggiunto per una cifra che si aggira intorno ai 3,8 milioni di euro. Una cifra molto vicina ai 4 milioni che il Catania non aveva voluto spendere a giugno per il riscatto del giocatore. Le cose però adesso sono decisamente diverse. Il Catania ha ceduto Morimoto al Novare e nelle prossime ore chiuderà il passaggio di Maxi Lopez alla Fiorentina. Bergessio quindi era il giocatore ideale per affiancare David Suazzo che avrà bisogno di un paio di mesi per ritrovare la forma dei tempi migliori. Adesso però bisognerà pensare alla difesa che ha bisogno almeno di due elementi. Fondamentale e improcrastinabile è l'arrivo di un centrale che possa sostituire Silvestri e affiancare Nicola Spogli. Si fa calda la pista che porta l'argentino Bottinelli del San Lorenzo. Ma, e non sarebbe una novità, è probabile che lo Monaco abbia pronta l'ennesima sorpresa. Ed eccoci tornati in studio, siamo al calcio. Gonzalo Bergessio è pronto per tornare al Catania, manca poco per l'ufficialità. A volte ritornano. Gonzalo Bergessio a breve tornerà ad essere un giocatore del Catania. Il club rossa-azzurro ha infatti trovato l'accordo con il Saint-Etienne. Bergessio, che aveva sempre manifestato il desiderio di voler tornare in rossa-azzurro, avrebbe già lasciato la squadra francese per dirigersi in Sicilia. Bergessio, già entro la fine di questa settimana, potrebbe allenarsi agli ordini dal tecnico Vincenzo Montella. Lo Monaco nel frattempo smentisce l'interesse della Fiorentina per Maxi Lopez, che però, secondo indiscrezioni, se Gilardino andrà al Genoa è pronto ad indossare la maglia viola. Intanto oggi doppia seduta per la squadra etnea convince sempre di più il centrocampista Checo.